Credo una leggera distorsione alla caviglia, quindi vediamo domani, è provata a rientrarlo, non ce l'ha fatta l'ora aggettivo, non lo so, forse non sono concentrato, sono stanco tutti e due, oppure non lo so, ha fatto l'impresa, mi è piaciuto anche appunto partendo da Mario, lo spirito di sacrificio degli attaccanti, perché oggi sapeva che era una partita anche di sacrificio fisico, oltre che tecnico, ma la squadra li spostò, partendo dagli attaccanti, i licici diamanti, Salah, lo stesso Joaquin, mezzo oltre a Mario, hanno fatto una partita dentro la partita, mettendo in campo anche qualcosa di diverso.